Il volto di quest'uomo ormai da anni compare sugli schermi di milioni di persone. In tantissimi hanno fatto video su di lui, hanno parlato della sua storia, della sua pericolosità e soprattutto del fatto che ad ogni seduta del suo processo si presentava con nuove e diverse automutilazioni al volto e non solo. Apparentemente guidato da un antico dio egizio che gli diceva cosa fare. Si tratta ragazzi di una persona curiosa e al tempo stesso spaventosa per via delle azioni che ha compiuto. Ma non solo, il suo è un caso unico nel suo genere che dimostra che a volte l'unico colpevole non è l'assassino. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi finalmente parliamo di Nico Jenkins. Avevo già fatto un video breve su TikTok ma fidatevi la sua storia ha bisogno di un video a parte. Quello che gli è accaduto durante tutta la vita è semplicemente incredibile, tanto triste e ingiusto ma anche tanto spaventoso. La cosa più terribile però è che praticamente tutto ciò che è successo poteva essere evitato e prevenuto centinaia di volte. Il che vi avviso vi farà arrabbiare non poco. Quindi cominciamo subito con la contorta storia di Nico Jenkins. Nico nasce il 16 settembre 1986 in Colorado ma per qualche dettaglio che non sappiamo passerà la sua infanzia e poi praticamente tutto il resto della sua vita ad Omaha in Nebraska. Si tratta di una città con più di 400.000 abitanti al confine con l'Iowa ed è famosa per i suoi musei e per lo zoo con un bellissimo acquario. Potrebbe sembrare una cittadina perfetta in cui vivere, infatti molti negli Stati Uniti la conoscono e la considerano un'opzione valida per crescere una famiglia per via delle numerose scuole pubbliche, delle attrazioni divertenti e dei bei quartieri di cui è composta. Tuttavia, andando un po' più a fondo si scopre in fretta una realtà piuttosto preoccupante. Omaha ha un tasso di criminalità altissimo. Di 40 ogni 1000 residenti. Significa che chi ci vive ha una probabilità di 1 su 25 di essere vittima di crimini violenti o legati alla proprietà. Che ansia! Da quanto ho capito Milano in proporzione è molto più sicura con circa 5 reati ogni 1000 abitanti. Quindi sempre in proporzione Omaha sarebbe 8 volte più pericolosa di Milano. E Milano è la città più pericolosa d'Italia, secondo le percentuali di crimini per abitanti. Omaha ha un tasso di criminalità tra i più elevati anche negli Stati Uniti. Insomma, non è proprio una cittadina tranquillissima come quella di cui parliamo di solito. Anzi. Ed è proprio lì che Nick Jenkins passa i suoi primi anni di vita. I suoi genitori sono David Maggi, del quale non si trova alcuna foto online, e Lori Jenkins. Nicko è uno di sei fratelli, in realtà l'unico maschio perché ha ben sei sorelle. E direi che la sua è stata un'infanzia piuttosto problematica. Parliamo di abusi psicologici da parte dei suoi genitori e di abusi fisici. Molto spesso il piccolo Nicko assiste a violenza ed abusi tra i suoi genitori e i suoi parenti in generale. In sostanza cresce in un clima in cui la violenza è all'ordine del giorno tra le persone che lo circondano. E ovviamente ne cade vittima anche lui molto spesso. In alcune occasioni le liti tra i suoi genitori sono talmente violente che deve andare lui a mettersi in mezzo per cercare di fermarli ed evitare che sfoci in qualcosa di più pericoloso. E tenete a mente, a questo punto Nicko è solo un bambino. Una volta, pensate, all'età di soli 4 anni, ha dovuto pulire del sangue dal pavimento a 4 anni. Cioè, lui ricorda ancora oggi questo episodio in maniera molto nitida, e ci credo. Questo, come tanti altri episodi della sua infanzia, l'hanno traumatizzato profondamente. Perché appunto non era qualcosa che capitava ogni tanto o a cui aveva assistito per errore. Era la norma. La violenza e la criminalità in quella famiglia erano e sono un elemento portante e fondamentale. Praticamente tutta la sua famiglia ha un trascorso criminale non indifferente. E parlo anche di zii, cugini, cugini dalla lontana, di secondo grado e così via. Per cui qualsiasi cosa faccia, e in qualsiasi posto si trovi già da piccolo, Nicko assiste a comportamenti di una violenza inimmaginabile, per la maggior parte di noi almeno. E non servo io per dirvi che crescere in un ambiente del genere può portare a non pochi problemi psicologici. Pensate che 38 dei suoi parenti sono criminali che sono stati o sono tutt'ora in prigione. E hanno commesso complessivamente 633 crimini dal 1979 fino ad oggi. O almeno fino a due anni fa, quando hanno fatto questo calcolo. Sono numeri assurdi, per cui capite che Nicko non ha mai visto nient'altro nella sua vita se non violenza, crimini, sparatorie, furti e così via. Non ci è voluto tanto infatti perché anche lui cominciasse a seguire le orme della sua famiglia. A soli 7 anni, Nicko porta una pistola carica a scuola con l'intenzione di utilizzarla in qualche modo. 7 anni. Per fortuna quella volta non la utilizza, ma comunque il solo fatto di averla portata a scuola è molto grave. E per questo viene allontanato dalla sua famiglia e mandato in affidamento. E qui ragazzi, i primi problemi. Ovviamente questa è la prima volta che la polizia viene a conoscenza del suo nome, ma conosceva già molto bene il nome dei suoi familiari. Immaginate il perché. Per cui cercano di intervenire, di fare qualcosa per questo bambino che poverino non aveva mai visto niente di sano in tutta la sua vita. Durante il periodo iniziale di affidamento, Nicko viene seguito per un breve periodo da un terapista. Al quale confessa, all'età di soli 8 anni, di avere pensieri autolesionisti e suicidi. Ma gli dice anche di voler far male agli altri. Oltre a questo, afferma di sentire delle voci nella sua testa che gli dicono di fare del male. Sempre 8 anni. Le stesse voci che gli avevano detto di portare la pistola a scuola e sparare ai suoi compagni di classe. È assurdo veramente, se pensiamo che avesse solo 8 anni. Queste cose di solito si sentono da parte di adulti, con grandi traumi alle spalle. Quindi immaginate quanto aveva sofferto lui. Quanto era stato in una condizione malata per arrivare a pensare queste cose a 8 anni. Durante queste sedute comunque gli viene diagnosticato per la prima volta un disturbo bipolare. Oltre a ciò, in quel periodo, il piccolo spesso bagnava il letto. Il che fa pensare al terapista che succedesse a causa dello stress e l'ansia derivanti dalla sua vita di famiglia. E qui, ragazzi, è stata la prima volta in cui si sarebbe potuto intervenire. Chi di dovere avrebbe potuto aiutarlo? Con la terapia? Con una famiglia fidataria in grado di dimostrargli amore? Insomma, era molto piccolo e la sua situazione era sicuramente salvabile. Ma purtroppo non viene fatto nulla. Gli viene diagnosticato il disturbo bipolare. E viene mandato in affidamento in diverse case famiglia e famiglie fidatarie. Però a causa del fatto che nessuno lo stava aiutando veramente, né con una terapia adatta, né con altro, il suo comportamento diventa presto ingestibile. Per gran parte della sua infanzia, infatti, non fanno altro che cacciarlo dalle strutture e dalle famiglie da cui lo mandavano perché era violento e minacciava gli altri bambini. Questo poi culmina all'età di soli 11 anni, quando il ragazzino entra nella sua prima gang. Ed è da allora che comincia a portare un'arma con sé, praticamente sempre. Per tutta la sua adolescenza, Nicco si macchia di diversi crimini, venendo arrestato e condannato per i reati più disparati, da incendio doloso a rapina a mano armata. E per questo motivo entra ed esce in continuazione dal carcere minorile per gran parte della sua adolescenza. Poi però, a 17 anni, il ragazzo commette due furti d'auto a mano armata che infine lo portano ad essere condannato a 15 anni di carcere. Ah, volevo dirvi che qualche video fa mi sono reso conto che chiedendovi di iscrivervi al canale, effettivamente vi siete iscritti in tanti. Ecco perché tutti gli youtuber lo ricordano in ogni video. Io pensavo non fosse necessario, ma ho notato che in effetti funziona e aiuta tantissimo il canale. Quindi, se vi piacciono i miei video, controllate di essere iscritti e se non lo siete, cliccate il pussantino, che mi aiuta davvero tanto. Grazie infinite se lo farete. Comunque, tornando a noi, inizialmente Nicco viene mandato in un altro carcere minorile e, quando compie 19 anni, viene trasferito in una normale prigione per adulti. Nemmeno lì, però, si dà una calmata. Alla fine era troppo tardi per intervenire sul suo comportamento. Aveva bisogno di essere tenuto sotto osservazione e la sua salute mentale dietro le sbarre non ha fatto altro che peggiorare. In quegli anni, Nicco prende spesso parte alle rivolte dei detenuti e, in un'occasione, aggredisce un agente. Per via di questi comportamenti, la sua condanna viene allungata di altri 5 anni, dunque un totale di 20. In realtà, però, ne sconterà solo 10 della sua pena e uscirà, quindi, molto in anticipo, come se nulla fosse. E dico come se nulla fosse per un motivo. Il 6 febbraio del 2010, nella Tecumseh State Prison, Nicco si sposa con una ragazza di 19 anni di nome Chalonda, che prenderà il suo cognome e verrà poi conosciuta come Chalonda Jenkins. Anche lei all'epoca stava scontando una pena in prigione. Comunque, durante i 10 anni di detenzione, Nicco ha passato il 60% del suo tempo in isolamento, ma proprio per periodi lunghi, senza pause. Magari stava con gli altri detenuti per qualche mese e poi veniva messo in isolamento per uno o due anni consecutivi, senza pause, senza la possibilità di socializzare. E sappiamo che l'essere umano non è fatto per stare in queste condizioni. In più, la sua mente era già compromessa da tantissimo tempo e in isolamento non ha fatto altro che peggiorare sempre di più. Prima di uscire di prigione, Nicco era stato in isolamento per due anni interi, di nuovo senza pause. Quindi sono passati da non farlo avvicinare a nessuno, a liberarlo nel mondo come se nulla fosse accaduto. Quindi, secondo questa logica, era pericoloso per gli altri detenuti e per gli agenti, per questo era in isolamento, ma non era pericoloso per essere libero tra i cittadini. Non ha senso, no? In più, cosa veramente preoccupante, cinque mesi prima del suo rilascio, nel 2013, Nicco si è dovuto sottoporre ad una valutazione psicologica per via dei suoi comportamenti allarmanti. Aveva difficoltà a gestire la rabbia e aveva comportamenti autolesionisti. Pensate che a quel punto, a cinque mesi dal suo rilascio, qualcuno doveva controllarlo ogni 15 minuti per evitare che si togliesse la vita. È una sorta di prevenzione, non è che ogni secondo lui provava ad ammazzarsi, ma tenete a mente che questo è lo stesso minutaggio in cui si controllano i pazienti psichiatrici a rischio suicidio. Nicco, infatti, in quel periodo si mutilava ripetutamente il volto e aveva detto più volte allo staff della prigione di voler mangiare i cuori di donne, uomini e bambini. Parole sue. Inoltre, il ragazzo beveva la sua stessa urina e... Mio Dio. Beveva e sniffava il suo sperma. Diceva di farlo perché era una sorta di integratore alimentare. Sosteneva che, bevendo e sniffando quelle cose, i suoi livelli di serotonina si sarebbero alzati, aiutandolo a controllare i suoi problemi di gestione della rabbia. Tutte cose che diceva lui, eh. Inoltre, in quel periodo, sempre poco prima che venisse liberato, Nicco aveva pensieri ossessivi e, in generale, la sua mente era incontrollabile. I suoi pensieri sfrecciavano velocissimo uno dopo l'altro, senza che lui ne avesse il controllo. Inoltre, sentiva ancora le voci e, spesso, aveva delle allucinazioni. Secondo ciò che diceva in quel periodo, nella sua mente sentiva anche delle istruzioni dall'antico dio egizio, Apophis, che gli diceva di fare del male al prossimo. Apophis, tenete a mente, è una divinità dell'antico Egitto, incarnazione delle tenebre, del male e del caos. E tornerà più avanti nel video, quindi non dimenticatevelo. Quindi, nonostante tutto questo, nonostante fosse chiaro che Nicco non stesse affatto bene e non fosse adatto alla libertà, ma piuttosto ad un lungo e controllato percorso terapeutico, nel luglio del 2013 viene scarcerato. Passa direttamente dall'isolamento totale al mondo esterno, in mezzo alle persone, come se fosse sano e stesse bene. Cioè, già era messo male prima, poverino, non per colpa sua, almeno all'inizio. Ma adesso, dopo tutto quel tempo in isolamento, chi cavolo ha pensato che fosse una buona idea rilasciarlo? E non è stato rilasciato in libertà vigilata, e attenzione, è stato rilasciato e basta, senza alcuna supervisione, senza alcuna restrizione. Questa cosa non ha assolutamente senso. Anche perché Nicco stesso aveva chiesto allo staff del carcere di non essere rilasciato, e anzi aveva chiesto aiuto ancora e ancora. Era cosciente della sua condizione, e sapeva che avrebbe fatto del male a qualcuno se fosse stato liberato. E qui dico, ovviamente questo non lo assolve da assolutamente nessuna delle sue colpe, e non giustifica alcune delle azioni che compirà una volta rilasciato. Ma dico, è solo colpa sua? O forse è anche colpa del sistema che ha ignorato i campanelli d'allarme e ha liberato una mina vagante. Il ragazzo, infatti, aveva proprio detto testuali parole di non rilasciarlo, altrimenti avrebbe ucciso qualcuno. Eppure, il 30 luglio del 2013, Nicco viene rilasciato, e per festeggiare la sua famiglia gli organizza una festa pazza in un hotel ad Omaha. Durante questa festa, tra alcol e chissà cos'altro, un suo parente gli fa un regalo molto particolare. Suo zio, un uomo di nome Warren Levering, gli regala un fucile. Eh sì, cosa che regala da una persona appena uscita dal carcere? Un fucile, per forza. Comunque, tenete a mente anche suo zio Warren, perché anche lui tornerà nella storia. E non essendo in libertà vigilata, Nicco, nessuno lo controlla. Nessuno controlla che abbia un'arma, per cui è libero di tenerla e andare in giro con quest'arma, perché, boh, non lo so perché, ragazzi, questa storia è un what the fuck continuo. Comunque, alla festa, il ragazzo finisce con litigare pesantemente con sua moglie Cialonda, perché lei si è innervosita dopo che lui ha fatto il cretino, tra virgolette, con altre ragazze. Ecco, però, come immaginate, non è stato un litigio normale, è stato piuttosto pesante. Ma ci dobbiamo tornare dopo, perché giocherà un ruolo fondamentale più avanti negli eventi. Sempre alla festa, Nicco rivela di avere l'intenzione di trasferirsi in Florida per commettere delle rapine, così da accumulare abbastanza soldi per trasferirsi poi a Cuba e arruolarsi nell'esercito cubano, con l'obiettivo finale di combattere contro gli Stati Uniti. Insomma, degli obiettivi piuttosto discutibili e inusuali. Ma d'altronde, non penso ci si potesse aspettare qualcosa di diverso da lui, no? Non dopo tutto quello che ha passato, non dopo essere stato abbandonato in una cella per gran parte della sua vita senza l'aiuto che gli serviva e che chiedeva... Vabbè, arriva il 10 agosto e Nicco dichiara alla sua famiglia di voler fare qualche rapina ad Omaha, al che sua sorella Erika Jenkins e sua cugina, Christine Bordeaux, gli dicono di volersi aggiungere a lui. Così Nicco studia un piano e lo espone alle due ragazze. Erika e Christine sarebbero andate in un bar locale con l'obiettivo di rimorchiare due uomini. Avrebbero poi portato questi due uomini in un posto isolato con la promessa di un rapporto sessuale e una volta lì, Nicco sarebbe spuntato fuori e li avrebbe derubati. Un piano molto semplice, soprattutto per loro, e infatti decidono subito di attuarlo. Christine ed Erika si recano in un bar del posto dove incontrano Jorge Cahiga Ruiz, di 29 anni, e Juan Uribe Pena, di 26. I due, che erano lì proprio per cercare di rimorchiare, si fidano di Christine ed Erika e salgono su un pick-up sotto loro indicazione. Poi partono e arrivano in un parco piuttosto isolato dove Nicco salta fuori e anziché derubarli, spara ad entrambi, alla testa, ad una distanza ravvicinata utilizzando il fucile ricevuto alla festa di scarcerazione. Purtroppo entrambi gli uomini perdono la vita sul colpo. Quando arriva la polizia la scena è grottesca, ci sono sangue, denti e cervella sparsi ovunque ed entrambi vengono trovati con le tasche rivoltate, segno che dopo l'omicidio sono stati effettivamente derubati. Purtroppo non sappiamo se Nicco volesse ucciderli a priori, oppure volesse solo rapinarli e la scelta di ucciderli è sorta dopo, ma dal modo in cui ha agito sembra quasi che la rapina fosse una scusa per ucciderli, perché in realtà era quello che voleva fare. Però appunto non lo sappiamo e queste sono solo supposizioni. Fatto sta che per un motivo o per l'altro, magari proprio per via delle voci di Apophis, Nicco ha tolto la vita a due uomini innocenti, con i quali non aveva nessun collegamento. Proprio per questo la polizia fa molta fatica ad individuare dei sospettati, o meglio non risale a Nicco Jenkins. Così l'uomo, ormai quasi 27enne, continua a vivere la sua libertà come se nulla fosse. Tra parentesi era uscito dal carcere da 10 giorni e aveva già ucciso qualcuno, proprio come aveva detto alle guardie, prima di essere liberato. Otto giorni dopo l'omicidio di Jorge e Juan, Nicco decide di partecipare ad una festa, nella quale incontra un certo Curtis Bradford, un suo ex compagno di prigione. Non dicella, era con lui nella stessa prigione. I due alla festa si fanno una foto e la pubblicano su Facebook. È questa qui, in cui possiamo vedere che almeno all'apparenza i due sembrano essere amici o comunque in buoni rapporti. Ed era così effettivamente, si stavano simpatici. Una cosa curiosa riguardo la foto è lo strano gesto che fanno con le mani. Sono state fatte svariate ipotesi su che cosa stesse a significare. Alcuni hanno ipotizzato al segno di una gang, mentre altri alla somiglianza ad un serpente. E in effetti le mani posizionate in quel modo sembrano ricordare un serpente. E Apophis, la divinità egizia, è raffigurata proprio come un serpente. Ma comunque, tralasciando questo particolare, Nicco rivela a Curtis di voler nuovamente fare delle rapine. E sembra proprio che lo annunciasse così, proprio a tutto il suo entourage, per cercare delle persone che gli dessero una mano. E infatti era proprio così. Che coincidenza, anche Curtis aveva proprio voglia di commettere delle rapine. Quindi dice a Nicco che lo avrebbe aiutato, che potevano andare insieme. Così i due, accompagnati da Erika Jenkins, la sorella di Nicco che aveva partecipato all'omicidio di Jorge e Juan, entrano in macchina e si dirigono verso la destinazione, che però non conosciamo. Una volta nell'auto, uno dei due consegna a Curtis una pistola per la rapina. Peccato però che quella pistola era scarica. E Curtis non se ne è accorto, non ha fatto domande. Dunque una volta arrivati al luogo in cui avrebbero dovuto fare questa rapina, Erika punta la sua pistola verso Curtis e gli spara un colpo alla testa. Era tutto solo un'imboscata. Ed Erika, dopo il delitto, è così fiera di se stessa, perché era il suo primo omicidio, quindi è proprio contenta di esserci riuscita. Cioè, vi rendete conto? Ma non finisce qui perché Nicco, dopo il colpo di pistola, si infuria con sua sorella. E non perché aveva appena ammazzato il suo amico. No, perché voleva ucciderlo lui. Si arrabbia talmente tanto che prende la sua pistola e spara anche lui un colpo alla testa di Curtis, già deceduto per il colpo precedente. Un omicidio davvero senza senso. Non che gli altri ce l'avessero, ma la freddezza e il distacco totale della realtà di queste persone, è semplicemente spaventoso. Cioè, non un minimo ripensamento, non un briciolo di empatia. Erika era fiera di se stessa. Dio mio. E purtroppo, dopo tutto ciò, i due se ne vanno, lasciando semplicemente il corpo senza vita di Curtis al lato della strada. Poco dopo, un passante chiama la polizia, che trova il corpo di Curtis con due colpi d'arma da fuoco alla nuca. Anche questa volta sembra si sia trattato di un omicidio premeditato e pianificato, perché gli hanno consegnato una pistola scarica, facendo in modo che non potesse difendersi neanche volendo, perché avrebbero dovuto farlo, se non perché sapevano che volevano farlo fuori. Anche questa volta però non abbiamo la certezza che sia andata così. Forse è stata una decisione di Erika presa all'ultimo secondo, forse era Nicco che voleva ucciderlo, come poi ha rivelato a sua sorella quella sera, o forse volevano davvero andare a fare una rapina ma hanno cambiato idea e in corso d'opera, qualsiasi fosse il caso, trovo questo inesimo omicidio di una crudeltà indescrivibile. Secondo alcune ipotesi formulate in seguito dagli investigatori, è possibile che la gang di Curtis, oppure Curtis stesso, avesse avuto una sorta di lite con Erika Jenkins, o comunque avessero avuto da ridire, per un motivo che non conosciamo, e quindi la ragazza avesse deciso di togliergli la vita. Ancora una volta però non è una cosa certa, a questo punto gli agenti cominciano a sospettare qualcosa, sicuramente non avevano collegato gli omicidi precedenti con questo, però questa volta sapevano che Curtis conosceva Nicco Jenkins, e anzi c'era anche una foto di loro insieme su Facebook, scattata poco prima dell'omicidio. Ancora una volta non siamo sicuri di come siano andate le indagini, ma è probabile che nel giro di qualche giorno gli agenti avessero iniziato a sospettare qualcosa. Tuttavia, con solo sospetti e nessuna prova alla mano, Nicco continua ad essere libero. Ma poi gli agenti, anche volendo, non avevano avuto il tempo proprio di dedicarsi così tanto alla scoperta e al collegamento di tutti questi omicidi. Perché appena due giorni dopo l'omicidio di Curtis, a Doma ci sarebbe stato un concerto del famoso rapper Lil Wayne. E Nicco ha visto questo evento come un'opportunità per fare soldi. In che modo? Ovviamente derubando le persone che uscivano di lì. Comincia quindi a mettere su uno dei suoi piani, arrivando alla conclusione che l'auto che aveva non era proprio adatta per questo tipo di operazione. Quindi come primissima cosa decide di rubare una macchina che fosse in linea con quelle che potevano essere presenti all'uscita del concerto in modo da non dare nell'occhio. Per cui quella sera Nicco esce di casa in compagnia di sua sorella Erika, di sua cugina Christine e di suo zio Warren Levering. Proprio quello che gli aveva regalato il fucile il giorno della festa di scarcerazione. I quattro, tutti insieme nella stessa auto, si dirigono verso un McDonald's locale dove si appostano e attendono pazientemente che passi una macchina interessante da poter rubare. Dopo poco vedono un SUV avvicinarsi al McDrive e decidono che quella sarebbe stata l'auto perfetta per il loro piano. I criminali cominciano a seguire cautamente il SUV, fino a quando quest'ultimo non si ferma per qualche secondo e appena si ferma accade quello che siamo abituati a vedere in GTA. Peccato però che questo non è un videogioco. Nicco scende super velocemente dalla sua auto, si avvicina al SUV, apre con forza la portiera e trascina fuori la donna che era al volante da sola. Questa donna era Andrea Kruger, una madre di tre bambini di soli 33 anni. Quella sera stava semplicemente tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro e aveva pensato di passare al McDonald's per prendere qualcosa da mangiare. Non sapeva che questa piccola decisione avrebbe cambiato per sempre le sorti del suo destino. Nicco infatti, dopo averla trascinata fuori dall'auto e buttata a terra in mezzo alla strada, le spara quattro volte lasciandola lì a morire dissanguata. Dopodiché lui e suo zio Warren salgono sul SUV e vanno via, seguiti da Erika e Christine che intanto erano rimaste nell'altra auto. Un'altra persona innocente è caduta vittima della furia omicida senza senso di Nicco. Davvero non ha senso. Erano tutte persone casuali quelle che ha ucciso. Tranne Curtis che vabbè è stato ucciso da Erika. Comunque sul serio il suo modo di agire fa venire i brividi per quanto fosse arbitrario, casuale e violento. Il rimorso e l'empatia sembravano emozioni sconosciute per Nicco Jenkins. E così un'altra tragica morte avrebbe lasciato un vuoto immenso nelle vite di tante persone senza un motivo. Quella sera inoltre i criminali, in teoria, non hanno commesso altre rapine. Non hanno commesso delle rapine. Il che fa di nuovo pensare che l'obiettivo ultimo fosse solo quello di uccidere. Poi lo zio di Nicco, Warren, ha provato a disfarsi delle prove bruciando il SUV di Andrea ma è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre lo faceva. Per cui, insomma, ha fallito. A questo punto gli omicidi totali sono 4 e la polizia ancora non è riuscita a collegarli. Le vittime infatti non hanno niente in comune tra di loro. Sono casuali, non collegate. L'unica cosa che collega i 4 delitti è l'arma utilizzata. Ma ci vuole del tempo prima che si faccia questo collegamento. Tenete a mente che questi omicidi sono avvenuti nel giro di una decina di giorni. Quindi passano altri 10 giorni circa. Giorni in cui Nicco continua a vivere da uomo libero totalmente indisturbato. Poi però il 30 agosto del 2013 viene arrestato. Ma non per gli omicidi, anzi per una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. Ricordate la lite con sua moglie Cialonda alla festa? Ecco Nicco si era incazzato talmente tanto che l'aveva minacciata di morte. Le aveva detto che le avrebbe fatto del male arrivando ad ucciderla e avrebbe fatto del male anche a sua madre e alla sua famiglia. Oltre a questo le aveva detto che avrebbe inviato delle forze demoniache a casa di sua madre. Non sappiamo che genere di forze demoniache ma conoscendolo mi viene in mente Apophis. E insomma lei conoscendo Nicco molto meglio di noi ha preso le sue parole molto seriamente. E infine ha deciso di denunciarlo alla polizia per queste minacce. Dopo quella lite era genuinamente terrorizzata da lui. In tutto ciò la polizia non ha assolutamente idea di ciò che sta per scoprire. Ma ad ogni modo arresta Nicco Jenkins e lo tiene in custodia per degli accertamenti. Ora non conosciamo la cronologia esatta di come si sono svolte le indagini. Fatto sta che mentre Nicco era in custodia gli investigatori scoprono chi aveva acquistato le munizioni utilizzate nell'arma da fuoco usata per compiere gli omicidi. Dopo varie indagini trovano finalmente i video delle videocamere di sorveglianza di un negozio di armi e scoprono che la persona che aveva acquistato le munizioni era Lori Jenkins la madre di Nicco. Quindi a questo punto cominciano a fare due più due e perché l'intera famiglia Jenkins era ben conosciuta dalla polizia sua madre era conosciuta dalla polizia e dato che avevano un Nicco in custodia ne approfittano per farle delle domande anche riguardo questi quattro omicidi. Quindi il 3 settembre dello stesso anno la polizia comincia l'interrogatorio con Nicco riguardo gli omicidi. Un interrogatorio che sarebbe durato 8 ore. Sul web si possono trovare diversi spezzoni dell'accaduto ma non l'interrogatorio intero. Tuttavia possiamo farci un'idea di quanto è successo. Il suo comportamento è strano a dir poco. Ad un certo punto si alza dalla sedia per sedersi a terra senza un apparente motivo e dice cose che hanno poco senso. Inizialmente nega ogni coinvolgimento con gli omicidi ma poi cambia totalmente versione. Dice che era tutta colpa di sua sorella Erika e di sua cugina Christine ma che era anche lui in qualche modo coinvolto perché aveva messo l'intelligenza secondo le sue parole. In parole più comprensibili dice di essere la mente dietro gli omicidi ma di non averli commessi. Poi cambia di nuovo versione dicendo di averli commessi ma solo perché era stato Apophis a comandargli di farlo. Infine cambia ancora una volta versione dicendo di averlo fatto come una sorta di vendetta contro il sistema penitenziario che non avrebbe dovuto liberarlo. E su questo siamo tutti d'accordo ma lui continua dicendo più volte vi ho avvisati vi ho avvisati sapevate che avrei ucciso se mi aveste liberato. In sostanza dice che la colpa è del sistema e per carità un po' lo è assolutamente ma questo non giustifica in alcun modo le sue azioni. Tuttavia all'interrogatorio cerca in tutti i modi di dare le colpe ad altri o a qualcos'altro sia menzionando Apophis che il sistema ma non si prende assolutamente mai le sue responsabilità. Anche per questo non possiamo sapere il reale motivo che lo ha spinto ad uccidere quattro persone. Potrebbe essere tutto quello che ha detto, un mix delle cose o niente di tutto ciò. Nonostante tutto la sua confessione basta agli agenti per arrestarlo per i quattro omicidi. Nel novembre del 2013 Nikko scrive una lettera ad un giornale locale di Omaha nella quale confessa i suoi delitti e dice di non essere in grado di sostenere il processo per via dei suoi problemi di salute mentale. Ma nell'attesa di questo processo Nikko fa causa allo stato del Nebraska per 24 milioni e mezzo di dollari sostanzialmente dicendo che dovrebbe essere incolpato lo stato per gli omicidi perché non avrebbero dovuto rilasciarlo e che quindi gli omicidi si sarebbero potuti evitare se fosse rimasto in carcere. Che assolutamente sì. È vero però gli omicidi li ha comunque commessi lui e per questo deve pagare. Visto però tutte le sue dichiarazioni riguardo il suo stato di salute mentale, prima del processo un giudice ordina che venisse fatta una perizia psicologica per capire se Nikko fosse effettivamente in grado di sostenerlo o meno. Ecco in passato al ragazzo erano stati diagnosticati un disturbo bipolare, un disturbo schizzo affettivo e anche un disturbo ossessivo compulsivo. Tuttavia a seguito della perizia si è stabilito che Nikko si stava inventando tutto quanto. È quello che aveva in realtà, era solo un disturbo antisociale di personalità. E oddio, sicuramente aveva anche quello. Ma sembra strano che tutte le diagnosi vere fatte in passato siano state smentite proprio prima del processo. Non è che stavano cercando di pararsi il culo consapevole di aver sbagliato a liberarlo, nonostante tutti i suoi avvertimenti, nonostante tutti i suoi problemi? Non lo so, pensiero mio. Comunque Nikko viene dichiarato in grado di sostenere il processo, così cominciano le prime sedute. Nikko Jenkins decide di licenziare praticamente tutta la sua squadra di difesa per rappresentare se stesso. E durante l'intero processo non nega mai gli omicidi. Continua però a dire che non è responsabile. Il vero responsabile, secondo la sua difesa, cioè secondo lui, è l'antico dio egizio Apophis, che gli ordinava di fare del male. Gli omicidi, secondo le sue parole, erano solo una forma di sacrificio per Apophis. Il 16 aprile del 2014, Nikko viene dichiarato colpevole di tutti e quattro gli omicidi. Tuttavia in quel momento riemergono tutte le domande riguardo la sua salute mentale, perché se davvero avesse sofferto di tutte quelle patologie che gli erano state diagnosticate in passato, allora non avrebbero potuto condannarlo a morte. Per via di questi dubbi, la sentenza continua ad essere rinviata. Ed è in questo momento che la storia di Nikko comincia ad acquisire una fama mondiale, perché tra un ritardo della condanna e l'altro, Uomo continuava a fare notizia per le sue azioni scioccanti. Nonostante fosse dietro le sbarre, in qualche modo Nikko riusciva a procurarsi delle lamette con le quali continuava ad automutilarsi. Si è inciso un 666 sulla fronte, ma dato che l'ha fatto davanti ad uno specchio e senza pensarci troppo, i numeri sono risultati al contrario, come dei nove sotto sopra. Dato che dalle sue foto non si capisce, ecco un'immagine che mostra più o meno il modo in cui se li ha incisi. Ha anche provato ad incidersi Satana sulla fronte e si è tagliato la lingua in due per assomigliare ad un serpente, ancora una volta a riferimento ad Apophis. Questa mutilazione alla lingua ha richiesto nove punti di sutura, ma per ultima cosa, la più angosciante, con un rasoio ha provato ad incidere il suo pene per farlo assomigliare ad un serpente. Questo ha richiesto ben 27 punti di sutura. In molti articoli sul web si parlava del fatto che se lo fosse tagliato del tutto o se lo fosse tagliato in due per lungo, ma in realtà aveva solo fatto, solo, oddio, fatto delle incisioni, incisioni a forma di serpente che non si capisce neanche bene in che senso. Immagino si sia inciso. Andiamo avanti, che dite? Perché? Andiamo avanti. Quindi è per questo che il suo nome continuava ad apparire ancora nei media nazionali e poi internazionali. Si è concluso comunque che facesse tutti questi gesti disperati per apparire come un pazzo, così da evitare la pena di morte. E non lo so ragazzi, se ricordate, faceva queste cose non così tanto spinte, ma comunque le faceva anche la prima volta che era stato in prigione, quando la pena di morte non era neanche una possibilità remota. E secondo me, questo è un chiaro segno del fatto che non lo stesse facendo per sembrare pazzo. Ma perché era pazzo? Passatemi il termine. Cioè, soffriva di tutto una serie di disturbi che lo portavano da giro in quel modo già da anni, già da prima della possibilità di una pena di morte. Quindi non lo so, etichettare il tutto solo come un palese tentativo di sembrare pazzo per non avere la pena di morte, secondo me non è giusto, considerando almeno il suo passato. Ma comunque, a seguito di tutti questi ritardi nella condanna, nel maggio del 2017, quasi 4 anni dopo gli omicidi, Nico Jenkins viene condannato a 450 anni di carcere e ad una pena di morte per ogni omicidio commesso. Alla fine hanno ritenuto che fosse in grado di scontare la pena di morte perché era troppo consapevole della sua condizione mentale. Se davvero avesse sofferto di tutti questi disturbi non ne sarebbe stato così consapevole e non li avrebbe usati di continuo come giustificazione e difesa per ciò che aveva fatto. Non lo so ragazzi, sembra un po' una scusa per condannarlo a morte ad ogni costo, ma sono sicuro, o almeno spero, che chi di dovere abbia fatto le giuste considerazioni riguardo il suo caso. La cosa certa è che Nico soffriva di svariati disturbi psichiatrici da tantissimo tempo e doveva essere trattato diversamente dalle istituzioni prima che commettesse gli omicidi, ma invece hanno preferito ignorarlo. E tra poco vi spiego quanto l'hanno ignorato perché farà brividire. Intanto però non dimentichiamoci che questi omicidi non li ha commessi da solo. Erano crimini fatti in famiglia, se così si può dire. La madre di Nico, Lori Jenkins, è stata condannata a dieci anni di reclusione per aver comprato le munizioni. Probabilmente era a conoscenza del fatto che quelle munizioni sarebbero state utilizzate per uccidere qualcuno. Quindi è per questo che la condanna è così alta. Erika Jenkins, invece, sorella di Nico, è stata condannata all'ergassolo per l'omicidio di Curtis Bradford e anche per aver preso parte a delle rapine. Christine Bordeaux, invece, la cugina, è stata condannata a vent'anni per il suo ruolo nelle rapine e negli omicidi. Era coinvolta, ma non ha ucciso nessuno personalmente. La sua condanna tuttavia, che può sembrare piuttosto lieve, è stata appunto addolcita per via del fatto che ha collaborato con le forze dell'ordine, raccontando tutto quanto riguardo vari crimini di tutta la famiglia e ha fornito anche prove che si sono rivelate cruciali durante i vari processi. E pensate che ad un certo punto della loro detenzione, Christine ed Erika sono state messe nella stessa cella per qualche motivo e, come era prevedibile, Erika ha quasi ucciso Christine per aver fatto la spia. E dai, sembra che l'abbiano fatto apposta a metterla nella stessa cella. Cioè, che cosa si aspettavano? Era ovvio che si sarebbero scannate. Comunque, lo zio, invece, Warren Levering, è stato condannato a 40 anni per il suo ruolo nell'omicidio di Andrea Kruger. In realtà, anche altri membri della famiglia erano correlati in misura inferiore a questi delitti. Ma per non complicare ulteriormente questa storia già complicata di per sé, vi ho parlato solo delle persone che hanno partecipato attivamente. Però sì, erano coinvolte un bel po' di persone. E i media hanno trattato il caso come se l'unico colpevole fosse Nicco. Che lo è, per carità. Ma non era solo in nessuno di questi omicidi ed è una cosa importante questa, non so perché se ne parli così poco. Come vi anticipavo prima, i sistemi e le istituzioni non hanno ascoltato Nicco. E secondo me, in questo caso, hanno anche loro la loro dosi di colpevolezza. Non diretta, ma ce l'hanno. Perché dai documenti del processo è venuto fuori che mentre era in prigione per quei dieci anni, prima degli omicidi, Nicco chiedeva aiuto in continuazione. Ogni singolo mese, diverse volte al mese, per anni, Nicco chiedeva aiuto. Diceva di non stare bene, di aver bisogno di cure psichiatriche. Diceva che se non l'avessero aiutato era sicuro che avrebbe ucciso qualcuno. Letteralmente quattro mesi prima del rilascio ha dichiarato che se fosse uscito avrebbe ucciso, cannibalizzato e bevuto il sangue delle persone. Sono parole inequivocabili, cioè non lasciano molto spazio all'immaginazione. E le sue richieste d'aiuto decine e decine sono state sempre ignorate. Come puoi mettere in libertà totale un soggetto simile senza alcuna supervisione? Certo, lui è colpevole di aver ucciso quattro persone innocenti dopo essere uscito. Su questo non ci piove. Ma non è l'unico colpevole. È stato lui in primis vittima di un sistema che ha deciso di ignorarlo. Se lo avessero ascoltato, se fossero intervenuti, cosa che potevano fare centinaia di volte già da quando aveva otto anni, tutto questo non sarebbe successo. Invece no. L'hanno lasciato in isolamento senza terapie e poi l'hanno liberato nel mondo. Queste cose ragazzi non devono accadere. Perché poi chi ne paga le conseguenze sono sempre le persone innocenti che non c'entrano nulla. Tutta questa storia mi fa molta tristezza. Sono d'accordo sulla scelta dei giudici riguardo i 450 anni di reclusione di Nico Jenkins, ma sulla pena di morte non lo so. In questo caso sembra quasi un tentativo per sbarazzarsene e non doversene occupare una volta per tutte. Non so, mi dà questa impressione. Non sto accusando lo stato di questo, però è quello che sembra. Non ci sono prove, ovviamente. Comunque, tutt'oggi Nico è ancora vivo nel braccio della morte, in attesa della sua esecuzione. E prima di salutarvi volevo anche velocemente accennarvi qualcosa su una notizia che mi ha fatto un po' sgranare gli occhi. Allora, ovviamente, dopo gli omicidi e le condanne, Nico e Cialonda hanno divorziato, no? Ecco, questo ha reso Nico di nuovo single. Nel 2019 una donna del Texas di nome Dawn Arguello, di 46 anni, ha dichiarato di essersi innamorata di lui dopo aver partecipato ad un gruppo di sostegno per detenuti, che non ho idea di che cosa sia. Comunque, dopo averlo conosciuto in quell'occasione, appunto si è innamorata di lui e a quanto pare questo sentimento è stato ricambiato. Ecco, sempre a quanto pare, la donna nel 2019 aveva in programma di sposarsi con lui. E ha dichiarato queste parole ad un giornale locale. Non è quello che i media hanno fatto credere che fosse. È un enigma. Ha dei sentimenti. È molto sensibile. È molto intelligente. E sì, è molto manipolatore. La donna si è rifiutata di confermare o negare se si fossero effettivamente fidanzati, dicendo che non voleva rivelare ulteriori dettagli riguardo la loro storia d'amore nel braccio della morte. Da quel momento non abbiamo più notizie, non sono riuscito a trovare nient'altro su questa donna e sulla loro presunta relazione. Una cosa curiosa, però, è che lei ha ammesso che il fatto che lui avesse ucciso quattro persone non la turbava. Si è però molto arrabbiata quando lui si è inciso il suo nome, Dawn, in testa con una lametta. Dei valori morali singolari, questa signora, eh? Adesso, ragazzi, fatemi sapere quello che pensate riguardo alla storia di Nico Jenkins. Conoscevate già qualcosa? Non l'avevate mai sentita? E cosa pensate delle sue azioni e del comportamento delle istituzioni? Fatemi sapere tutto quanto qua sotto. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di una persona da cui gelosia è sfociata in tragedia. E in quel caso ci saranno anche delle prove fotografiche dei momenti precedenti alla tragedia. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, se siete curiosi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più in profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram, se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!